Ehi la, buongiorno, buonasera, buona notte e benvenuti al nostro canale! Io sono Allie, e io sono Allie, e siete su Allie Auricane! Come avete già letto dal titolo, finalmente vi faccio vedere cosa abbiamo ricevuto in questo Natale! Ovviamente dopo ogni Natale ci serve il video dei regali di Natale 2021. Sì, proprio c'è, ormai è un rito che va fatto. È una tradizione, PS, le mie unghie sono pure a tema natalizio e le ho fatte abbastanza recentemente proprio per festeggiare il Natale, siamo tutte a tema natalizio. Oltre le mie sono bianche perché ormai il rosso diciamo che è per gli accessori. Diciamo che noi abbiamo festeggiato Natale molto molto bene, ma tra l'altro in questo video inseriremo anche i nostri regali di Santa Lucia. Esatto, perché per chi non lo sapesse, da noi a Verona e a Bergamo, insomma da queste bande qua, si festeggia questo Santa Lucia il 13 dicembre che ti porta i doni. I regali, tipo un Babbo Natale, perché qui non arriva Babbo Natale, qui arriva Santa Lucia in anticipo. Noi vi ricordiamo di iscrivervi su tutti i nostri altri social. Nel Instagram e Twitter dove ci chiamiamo alleauri.channel e anche alla nostra newsletter del sito www.alleauri.channel.it A e PS fateci sapere se avete ricevuto qualcosa di nostro appunto in questo Natale. Perché abbiamo impacchettato un sacco di ordinini proprio nel periodo pre-natalizio. E non l'idea di lasciarvi col video. Proprio per rimanere in ordine cronologico, inizieremo con i regali che sono arrivati da Santa Lucia il 13 dicembre. Allora, Santa Lucia da noi è molto acculturata, infatti sono arrivati due libri a testa. E' arrivato il 6 e l'8, perché il 5 e il 7 li ho presi su Culture Hobby, nella saga di Ana dai Capelli Rossi. E io l'adoro, l'ho iniziata a leggere quest'estate e ho letto fino al quarto libro. Li ho davvero divorati, bellissimi. Al contrario, io e lei abbiamo due stili di lettura completamente diversi. Io adoro i romanzi storici, soprattutto i thriller. Questo qua dovrebbe essere... Io li ho proprio leggeri. Esatto, dovrebbe essere una biografia di Lucrezia Borgia, che è appunto un personaggio storico vissuto nel Rinascimento. E qua invece è un thriller con appunto un protagonista Leonardo da Vinci. Questo mi sembra molto interessante. Esatto, io adoro i thriller storici, quindi questo qua sicuramente mi ispira. E ragazzi, c'è pure la firma dell'autore. Top! Poi anche noi e per la mamma, questo Natale abbiamo regalato principalmente libri. Poi nelle vacanze diciamo che è il periodo in cui si riesce a leggere maggiormente, tranne l'Aurora che legge di notte. Esatto, io leggo fino alle tre di notte, ma questa è un'altra storia. Poi abbiamo ricevuto... Questo fantastico plan dell'allegami. Io l'ho ricevuto tutto rosa da Monday al Friday, più weekend, ma io weekend lo utilizzerò per il sabato, perché il sabato vado a scuola. Con questa bellissima grafica, con la munga offiera. Al contrario mio, è ancora incartato e è a tema viaggi. Ed è anche questo dal lunedì al weekend. Perfetto per me in questo caso. Poi è super comodo, perché pure da scrivania non ingombra, però riesce a organizzare tutta la settimana in modo carino. E sicuramente sarà essenziale per organizzare gli esami di quest'anno, ma ne parleremo nel video che potrebbe uscire giovedì. Poi, sempre perché è un regalo che va assolutamente ricevuto o a Natale o a Santa Lucia, è il calendario ragazzi, senza calendario che non possiamo vivere. Io l'ho ricevuto a tema ballerina, è appunto stretto ma lungo. E ditemi che anche voi quando ricevete un calendario andate subito a vedere la foto corrispondente del vostro mese di nascita. Esatto, la prima cosa che faccio è solitamente la mia, quella che fa più gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Infatti mi piace tantissimo quella di maggio, bellissima. Invece ovviamente il mio, come l'anno scorso, a tema noi, ragazzi, ho un'ossessione riguardante questa città. E questo è il calendario che solitamente su cui scriviamo i video che dobbiamo fare. Da organizzare. È perfetto, e anche qua, questi sono appunto i mesi, giugno. Bello maggio. Sì, maggio ovviamente, è più bello di giugno, ma. Let's go. Bellissimo. Probabilmente l'anno prossimo avverrà anche il calendario di Aliauri, ma noi spoileriamo. Esatto. E poi il regalo, diciamo, quello importante, è stato di Pandora. Abbiamo ricevuto i dentici, questo braccialettino qua con le stelline, con anche le stelline sul braccialetto, più il champs dell'elicoptero. Elicoptero, elicoptero. Bellissimo. Perché sembra così tipo l'aereo che viaggia sulla sua orbita. Un significato bellissimo anche perché, ragazzi, quando la situazione sarà un po' più stabilizzata, avremo sicuramente andare a fare un bel, bel, bel viaggio. E anche qualche incontro. E poi tanti, tanti dolci che abbiamo già finito, peccato. Ma questa ora ovviamente è il periodo delle feste, quindi siamo giustificate. E direi di passare invece i regali ricevuti a Natale. Anche io. Allora, iniziamo per prima cosa dal Babbo Natale segreto. Che non sappiamo se da voi sia tradizionale, ma da noi tra amici o compagni di classe solitamente facciamo questo Babbo Natale segreto. E ricevi un regalo da una persona che non sai chi sia. Ed è proprio bello questo. Allora, io ho ricevuto questo portapenne da una mia compagna di classe. Pro rosa, a griglia, bellissimo, che ho già completamente riempito. È proprio bello. Mi conoscono benissime le mie amiche perché sanno che è una pazzia per il make-up. Sanno arrivati due prodotti appunto make-up. E questo qua, non so se ragazzi... Bellissimo, è un illuminante che ci vede anche a 8 km di distanza. Esatto, è meraviglioso. Questo qua, secondo me, è quando sarò abbronzata l'estate. Questo qua invece è un gloss che magari va messo sopra i glossetti per renderli glossi. Invece io ho ricevuto da altri due miei cari amici questo beverone, che è fatto in fibra di bambù, quindi super eco-friendly. Stile Alliauri. Perché sapete che noi ci teniamo all'ecosessione vita, vedete appunto il nostro sito. Con scritto Girl Power, stupendo per bere. L'acqua, il tè, il latte. Così lei è di solo l'acqua, perché le piace solo l'acqua. Invece Agostinelli, che è colui che mi ha portato in barca quest'estate, mi ha regalato un cappello lilla della Scout. Ce lo siamo presi uguale, proprio per fare i gemellini, ma è lilla ed è bellissimo. E' bellissimo, sapete che era un'ossessione per il lilla. Sempre per continuare l'ossessione lilla, in molti mi avete chiesto che cosa mi ha regalato Giorgio per Natale, adesso ve lo vado a vedere. Mi ha regalato questa felpa della Calvin Klein Jeans. Bellissimo. Tra l'altro sui polsi inizio ho poi scritto CK, fighissima. Molto molto carina, è un po' crop top, ma bellissima, col cappuccio. E' proprio lilla giusto, cioè quando mi chiedono quello del tuo colore preferito, io penso a questo lilla. Questa lilla dell'Elly. Che tra l'altro è anche lo stesso lilla del cappello. Poi passiamo alla categoria di regali che ci siamo un po' autofatte. O fatta a vicenda, oltre a quelli dei Wish, che però vi rimaniamo al video in cui li anche li scarpiamo. Esatto, noi sapete che abbiamo una piccola ossessione per Pandora, ma soprattutto per la collezione Star Wars. E infatti ci siamo regalati a vicenda un chance per Star Wars. Uguale, perché cosa volevi? E tra gli aurei non fare le gemelline? No. I chums di drogo. Perché noi l'anno scorso abbiamo ricevuto appunto il braccialetto colato a Star Wars, ma non avevamo ancora visto The Mandalorian. Adesso abbiamo anche una ossessione per The Mandalorian. Dopo lo andrò a mettere sul braccialetto sicuramente. Il auto legale che mi sono fatta invece io è questo cofante di The Bath & Body Works che abbiamo preso appunto a Milano. Super bello, è l'appunto in sconto. Quindi ragazzi, cioè cosa volete ripetere la vita. E appunto si chiama Into the Night. Che è perfetto, perché a me piace molto di più la sera rispetto al giorno. E ha un'acqua profumata, un bagno schiuma e una crema corpo. Fantastico. Non fa una piega, questa qua sicuramente verrà a Milano con me. Mi sono presa questa specie di maioncino di Oisho per stare in caso ovviamente. Che è abbinata ai pantaloni che le ho regalate l'anno scorso. Mi sono piaciuti talmente tanto che appena l'ho vista ho detto che devo assolutamente prenderle in abbinata perché che fai? Te ne privi? No. Poi un altro regalo ragazzi che è super apprezzata è questa tazza di Star Wars. Ma la cosa bella è che quando inserisci dentro acqua calda, te caldo si illuminano le spade laser. Ma è così e poi diventa tutta colorata. Esatto. E io questa cosa sicuramente la porterò a Milano. E l'abbiamo regata a mia cugina che ha anche 10 anni ma io sono contenta così perché è troppo troppo bella. Dai nostri zii abbiamo ricevuto delle cose uguali perché siamo gemelline. Esatto. Meno male. E appunto questo bellissimo trousse della Avene. Con dentro un sacco di prodottini. Abbiamo ricevuto entrambe. Questa crema a viso. Non puoi fare un umore. Come ti scusa? Dell'Etoile con questa bellissima stellina diciamo azzurra molto carina e chiusa tra l'altro. Oh guarda che carino. Dobbiamo un po' capire come inserirla nella nostra skin care routine. Of course. Poi un acqua pincellare che è super mega gradita perché noi ci strucchiamo ovviamente tutte le stelle. Questa cosa me la porterò a Milano. Poi abbiamo una crema corpo nutriente di questo colore fuchsian. Bellissimo. Sempre della marca Etoile. E poi sempre della marca Etoile tre trucchi. Un mascara, un eyeliner e una matita. Esatto. Ma guardate che bello sto eyeliner. Cioè di quelli che è il cro tipo fighissimo che dovremmo imparare a metterlo. Esatto. E io non sono mai riuscita a metterlo. E poi non è che mi faccia proprio impazzire su me stessa. Poi da nostra zia abbiamo ricevuto in questi bellissimi contenitori. Delle gift card da usare su Amazon. E noi sappiamo già che cosa prenderci. Ma poi da nostra altra zia è arrivata una gift card a me da Douglas. E a me da Giunti. Quindi dovremmo fare un bel acquistino Auri. A direi anche io Ellie. Successivamente la mamma e papà mi hanno regalato da Legami questo timbrino fighissimo. Con l'inchiostro che dobbiamo provare. Io ne avevo uno simile di un'altra marca. Però boh raga io non sono molto capace di utilizzarli. Esatto visto che anche l'ho comprato l'inchiostro nero da Wish è perfetto. Poi passiamo alla categoria calze raga che a Natale non possono mai mancare. Esatto. E siamo arrivati a un'età in cui ci piace anche riceverle. Allora abbiamo ricevuto da H&M, dalla mamma e papà, queste calze con i bordi sbrillucicosi. Diciamo abbastanza lunghe. La perfetta per il dottor Martis che se voi conoscete se non vi mettete i calzettoni lunghi vi aprono i piedi. Ma vi aprono i piedi anche con queste comunque. Poi dalla mamma e dalla sorella di Giorgio ho ricevuto queste due paia di calze di Calzedonia a tema roselline. Siamo sui colori del beige e questi qua invece sul colore del nero con le roselline rosa. Sembra un po' calzettoni quindi da mettere con le scarpe un po' più alte per evitare di spaccarsi di los piedos. Esatto ma comunque ti spacchi lo stesso. Poi adesso dire di passare invece completamente ai regali che ci hanno fatto la mamma e papà. Perché dai nonni io con i soldi che ci hanno dato mi sono comprata delle cose per Capodanno che non si farà quest'anno. Sto aspettando di andare all'Outlet per i saldi per comprare una borsa perché voglio una super mega borsa. Allora iniziamo da questo bellissimo regalino con una bustina che ho detto Alice. Poi dentro un bolo da Amazon. Da 50 euro quindi. Tutto il nostro carrello verrà svuotato. Let's go! E poi non può mai mancare dalla mamma e dal papà un pacchetto di tezenis. Cioè questa è proprio un'altra tradizione che va avanti da secoli. E noi apprezziamo tantissimo perché amiamo tezenis. Soprattutto appunto a Natale fanno delle collezioni che durante l'anno te le sogni. Per prima cosa ho ricevuto questo maioncino felpa tipo pecora o tappeto. Chiamatelo come volete ma è bellissimo. Ovviamente lilla. Lilla. Abbastanza corto per stare in casa. Bellissimo e non vedo l'ora di indossarlo perché è proprio quel lilla corretto. Io ho ricevuto invece dei pantaloni che sono super apprezzati così un po' sbellucicosi a quadri. Io adoro le robe per stare in casa da tezenis sono fantastiche. Perché sono sia comode che durano e quindi sono carine. Io invece li ho ricevuti con la texture rosa sempre a quadritti. Poi abbiamo ricevuto entrambe però in colori diversi un maglioncino da mettere. Barra maglietta con collo alto. Io lilla. E io invece rosso. Perché ragazzi questo anno io ho una folia per il rosso. Bellissimo. Ha costiglia abbastanza lungo. Poi per ultima cosa che non sia un pigiama ho ricevuto questo maglioncino sempre lilla. Cioè questa qui è l'inverno del lilla raga. Adoro. Cioè adoro. Vorremmo ancora capire se la Ellie è in palette con lilla ma va bene così. Non mi interessa. Facciamo tipo tutto pelosetto. Questo qui assolutamente per uscire. E poi appunto come abbiamo anticipato prima. Fiammi del pigiama. Capite che da tezenis ci sono i pigiami più belli di tutti. Io ho ricevuto un pigiama tema Alice in Wonderland. Cioè più azzeccato di così non si poteva. Con i pantaloni con questa fantasia. Diciamo color crema. La maglietta rosa con scritto Follow the White Rabbit. Super carino con Alice che sta per cadere. Rosa molto bello. Mentre invece io ho ricevuto diciamo un pigiama tema del mio idolo che è Winnie the Pooh. Come potete vedere tra le cover delle input sul sito. Esatto. Allora ovviamente questo pantalone. Bellissimo. Startup scottese. Quello sinistro con la faccia di Winnie the Pooh appunto gialla così. Con scritto Poho. Ragazzi io Winnie the Pooh è il mio idolo da tutta la vita. È proprio l'aurora. Winnie the Pooh è l'aurora. Esatto mi sento Winnie the Pooh. Quindi questo pigiama è super azzeccato. Per finire in bellezza abbiamo ricevuto due regali meravigliosi dalla mamma e papà a tema Pandora. Pandora e te già vieni se non possono mai mancare a nostro Natale. Io ho ricevuto questa collana bellissima che ha anche la mamma e l'auri uguale. È appunto quella classica di Pandora con la catenina. Con questo pendaglio a forma di cerchio. Poi la mamma e papà mi hanno preso anche un charms a forma di stellina davvero super carino. Però ovviamente ho anche la collana di alli auri addosso. Mentre invece a me hanno regalato un braccietto così ragazzi. Che l'aurora l'aveva proprio visto quando siamo andati a Milano e ci aveva sbavato sopra. Con il charms del quadrifoglio che ragazzi serve assolutamente. E con anche io una stellina cadente. Che noi siamo le loro postelline. Esatto. Quindi questi veramente sono tutti i nostri regali di quest'anno. Siamo state super 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 felici. Perché sono dei regali proprio che ci rispecchiano. Questi regali sono proprio alli auri. Però voi fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa avete ricevuto poi per Natale. Non vogliamo troppo sapere se avete ricevuto tipo di regali assurdi. E nulla. Noi vi mandiamo un grosso bacione. Ci salutiamo. 15 perso ranno scelta la video precedente. Allora iniziamo da Laura. Un bacione. Sveva. Un bacione anche a te. Caroline. Un bacione. Valentina. Un bacione anche a te. Alice. Un bacione. Noemi. Un bacione anche a te. Gioia. Un bacione. Sere. Un bacione anche a te. Maya. Un bacione. E per ultima Barbara. Un bacione anche a te. Noi vi auguriamo a tutti buon Natale in ritardo. Perché in realtà questo video lo stiamo registrando proprio il 25 di dicembre. Però in realtà ormai è il 27. Quindi buon Natale in ritardo. Speriamo che lo abbiate passato nel migliore dei modi. E noi ci vediamo giovedì con un nuovo video. Ciao. Ciao.